Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Questi ricordi non sono semplici indumenti di cui ci si può spogliare e mettere nell'armadio. Sono incisi nella nostra pelle. Non possiamo liberarcene. Il progresso, lungi dal consentire il cambiamento, dipende dalla capacità di ricordare. Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. Il futuro, in ogni istante, preme il presente perché sia una memoria. Tanto grande è il rischio di dimenticare che occorrebbe un anniversario di Auschwitz al giorno. Non pensa a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora.